Ciao ragazze, in questo video voglio mostrarvi tutto quello che ho acquistato da Kiko durante i saldi ho messo tutto in questa bustina e sono tutti gli acquisti che ho fatto delle collezioni di artist e di quella della Summer Collection Della collezione di artist io avevo già acquistato parecchi prodotti quando era uscita infatti avevo fatto anche un video, se vi interessa ve lo lascio giù nell'info box e voglio dirvi che mi sono trovata benissimo con tutti i pennelli quindi se vi interessa e li trovate scontati ve li consiglio io ho sia quello per il fondotinta che quello per occhi e anche quello per la cipria quello che mi è piaciuto di più è quello per fondotinta e poi quello per occhi lo stesso che è un duo brush e niente vi mostro i prodotti e ve li faccio vedere random allora, l'ultimo prodotto che ho acquistato è questo che praticamente è un eyeshadow in kajal della Summer Collection è il numero 03, non so se lo vedete questo è il packaging esterno e dentro è fatto così io ne ho acquistato davvero tanti di questi anche delle vecchie collezioni ho preso questo perché c'è sia questo blu verde acqua che questo marrone bronzo vi faccio uno swatch e poi questo qui e questo blu che secondo me per questo periodo è davvero bello quindi ci sono due colori a 36 mesi di PAO e ci sono per ogni colore 1,5 grammi di prodotto poi ho acquistato sempre della stessa collezione il Mirage Lip Stylo numero 09 praticamente ci sono 3 grammi di prodotto e avete 18 mesi di PAO e un rossetto per i prezzi vi lascio tutti giù nell'infobox perché adesso non mi ricordo a memoria comunque tanto ve li lascio tutti in ordine per come ve li ve li nomino i prodotti e ho preso questo colore qua che è il classico fucsia che io prendo praticamente tutte le estati e niente 09 Mirage vi faccio uno swatch è un bellissimo fucsia che non è per niente matte però secondo me va benissimo per questo periodo perché dà tanta luce al viso ve lo consiglio in questa collezione prima inizialmente avevano fatto il 30% e non avevo acquistato niente adesso ho visto che hanno fatto il 50% quindi ho acquistato questi due prodotti non ho acquistato nient'altro avrei venuto acquistare il blush ma non l'ho trovato e poi ho visto che ci sono i profumi uno dei due vorrei acquistarlo se non sbaglio quello Sarah un qualcosa però voglio se lo trovo lo acquisto ah no ho acquistato anche questo questo è il face brush mi ero dimenticata sempre della stessa collezione quando c'era il 30% è vero è sempre per il fondotinta siccome mi ero trovato appunto bene con quello dell'altra collezione ho voluto acquistare anche questo l'ho trovata anche adesso al 50% infatti se avessi aspettato l'avrei pagato la metà è fatto così qui c'è la plastica che vorrei togliere per farlo vedere ed è fatto così sembra davvero morbido e voglio provarlo poi mi piaceva troppo il packaging per questo l'ho acquistato perché in realtà non ne ho bisogno anche perché non tutti i fondotinti che utilizzo li utilizzo col pannello preferisco utilizzare il pannello per quelli un po' più densi che non quelli proprio liquidi quelli proprio liquidi preferisco spargerli con le dita più che non col pannello poi ho acquistato della collezione di Artist questa ha l'eyeliner questo è il packaging esterno questo me lo ricordo l'ho pagato solo 2 euro e quello ho fatto così sicuramente l'avete già visto perché è molto particolare perché potete fare sia una linea sottile che una più grossa e questo è il colore è un nero davvero intenso e l'ho voluto acquistare per quello poi per il prezzo che aveva l'ho voluto provare poi ho acquistato questo che praticamente è di quella di quella collezione quella dedicata praticamente ai ai college adesso non mi ricordo il nome della collezione comunque questo è il 01 Pretty Rose ed è il Face Palette dentro c'è il bronzer di 6 grammi l'highlighter di 4 grammi il blush di 6 grammi a 18 mesi di PAO ed è fatto così c'è lo specchio e poi avete i questi qua i tre prodotti e niente voglio farvi un eserro swatch ma non so se si vedono perché sono molto chiari io ho voluto acquistare questi sul rosa perché sono i colori che utilizzo di più e poi mi sembrava troppo scuro il bronzer dell'altra palette perché io comunque ho una pelle molto chiara questo è il blush e questo è il bronzer diciamo che mi piace nel senso che l'ho pagata il 50% di sconto se non sbaglio viene intorno ai 7 euro e poi mi piace molto il packaging l'avevo vista già quando era uscita però non volevo spendere 15 euro di prezzo intero non ho acquistato la palette perché una dava sui toni un po' del grigio l'altra i toni del nude e io ho tantissime palette che vanno sui nude poi ho acquistato sempre di The Artist questa questa matita l'eye pencil la numero 4 dentro ci sono ha 36 mesi di PAO e ci sono un gravo di prodotto faccio un gravo di prodotto ho preso questa matita qui che è un blu scuro intenso qui sembra così nero però se volete attentamente si vede magari un viola è davvero bella magari lo utilizzo magari quando faccio dei trucchi scuri magari per la sera non so quanto potete magari e niente quindi l'ho voluta acquistare poi ho acquistato un altro di Long Lasting Stick and Shadow io ne ho tantissimi infatti volevo farvi il video dove vi faccio gli swatch e vi parlo di tutti i colori perché praticamente li ho utilizzati tutti io ne avrò una condicina e mi trovo sempre benissimo e quindi ne ho voluto acquistare un altro ho preso questo che è il numero 11 ed è un verde acqua sì è il più chiaro rispetto alla matita che vi ho mostrato prima è questo qui sentite la campane e poi ho acquistato sempre della collezione quella sul college l'eye shadow ed eyeliner nella numero numero 04 sky blue ed indigo ho fatto così ne ho visto un altro che mi piaceva dove andava sul bronzo però non non era disponibile quindi non l'ho non l'ho acquistato questo da uno sul celeste così sempre sul verde acqua praticamente e uno l'eyeliner è più sul viola più chiaro rispetto a quello che vi ho mostrato prima qui addirittura questi sembrano molto simili però questo è molto più chiaro di questo questo praticamente dentro ci sono c'è 36 mesi di pow ci sono per l'ombretto 0,8 grammi e per l'eyeliner 0,3 grammi quindi c'è abbastanza poco prodotto per questo ho voluto aspettare anche il saldo diciamo che in realtà inizialmente non mi piacevano i saldi che c'erano perché c'erano troppo poche cose però poi come vedete ho acquistato abbastanza poi ho acquistato questo che è un qui dice un light infusion face powder di una vecchia collezione dell'anno scorso a 30 mesi di pow e sicuramente lo conoscete ancora l'ho fatto così adesso non vorrei accecarvi di una vecchia collezione l'ho voluto prendere perché praticamente qui c'è lo specchietto ed è fatto così perché praticamente c'è l'illuminante il blush e due tonalità di bronzer perché veniva sui 4 euro se non sbaglio e il colore è questo qua qui sembra abbastanza chiaro questo se non si vede perché è abbastanza chiaro poi non so se ci sono altri prodotti sì abbiamo quasi finito ho acquistato questo questo perché praticamente io ho anche il rosa e il bianco della stessa collezione mi sono trovata benissimo e allora ho voluto utilizzare anche il celeste e praticamente sono i frozen smoothies dentro ci sono 10 ml di pow ed è il numero 013 questo celeste è così chiaro l'ho voluto acquistare perché gli altri due li ho provati mi sono durati sulle unghie una settimana hanno cominciato a sbaccarsi al quinto giorno mi è piaciuto più il rosa rispetto al bianco però comunque anche il bianco mi è durato 5 giorni senza sbaccarmi mentre il rosa l'ho ottenuto se non sbaglio 8 giorni quindi magari un giorno in più rispetto a quello bianco però diciamo che io ho difficoltà con il bianco credo che sia il colore perché quasi mai riesco a trovare un bianco che mi copra tutta l'unghia con quello succede poi hanno uno scovolino abbastanza largo e niente ve li consiglio se volete vedere magari gli swatch a vedere come mi sono durati sulle unghie vi lascio giù nell'info box il link al mio profilo di instagram dove io praticamente testo magari delle cose e vi faccio vedere ci sono tutti gli swatch di quello che acquisto poi ho acquistato anche un'altra matita sempre di quelle di The Artist la numero 05 questa io mi trovo benissimo con le matite Kiko quindi le ho volute acquistare ne ho un sacco davvero tantissime fatta come l'altra solo che questa ha da sul verde non so più dove farvelo vedere ed è questa qui che è un verde che sicuramente utilizzerò d'inverno perché è un colore che tendo a utilizzare molto d'inverno e non in questo periodo se non sbaglio abbiamo finito una bugia c'è un ultimo prodotto l'ultimo prodotto è quello della collezione quello Best Friend se non sbaglio si chiama che è uscita per San Valentino io non avevo acquistato niente di questa collezione perché mi piacevano i rossetti però per il packaging perché appunto hanno una forma del cuore però ho tantissimi rossetti non mi sembravano colorazioni troppo diverse da quelle normali e quindi non ne avevo acquistato però poi ho trovato questo se non sbaglio ho pagato intorno ai 3 euro e quindi l'ho voluta acquistare io ho preso il numero 04 Ciclamen Roman Ciclamen che è proprio il colore che avrei voluto acquistare quando li ho visti perché tendo a utilizzare sempre quel colore che è quello mio preferito è fatto così ma sicuramente lo conoscete tutti ed è a forma di cuore come vi dicevo ed è questo colore qua questo qua è abbastanza lucidino quindi in questo periodo posso utilizzarlo tranquillamente mi piace davvero tanto dentro ci sono 36 mesi di paura e ci sono 3 grammi di prodotto è davvero bellino anche per mettere nella postazione il make up perché si vede il cuoricino e soprattutto vedete il colore perché a seconda del colore che è il rosetto avete un colore diverso qua e niente questi sono tutti i prodotti che ho acquistato con i sardi da Kiko come vi dicevo inizialmente non mi sono piaciuti quindi ho aspettato un pochino poi come ho visto che c'era il 50% su tutto ho voluto acquistare qualcosa fatemi sapere se conoscete questi prodotti se li avete già utilizzati come vi siete trovati effettivamente se avete acquistato qualche prodotto di questo scrivetemi giuro in infobox magari avete fatto il video il link che sicuramente lo guardo e niente a presto ciao ciao